Sì, lo so perfettamente cari amici librai, lo so che i libri che voi vendete li ricevete normalmente con uno sconto del 30 e talvolta anche del 40% se non di più. Con il progetto ebooks Italia, quando ebooks Italia dice gli ebook in libreria con gli ex libris si può, intende dire che voi cari amici librai se avete un computer attraverso il quale state vedendo questo mio video potete anche diventare tramite per i vostri clienti abituali per ordinare per conto loro la versione ex libris ovvero la versione stampata in volume su ordinazione e che viene stampata soltanto quando viene pagato l'ordine per i vostri clienti abituali. In questo caso certamente non riceverete una percentuale così alta sul venduto, riceverete una percentuale fissa, anzi riceverete un compenso fisso di 2 euro per ogni copia di ex libris che viene ordinata attraverso di voi per i vostri clienti. Però non avrete nient'altro da fare che effettuare l'ordine e poi attendere che arrivi l'ex libris e voi lo consegnate al vostro cliente. Non avete carichi di magazzino, non avete problematiche di carattere amministrativo, non avete da fare nient'altro che fare un nuovo servizio per tutti i vostri clienti abituali. Se desiderate ricevere ulteriori informazioni contattateci e se desiderate aderire noi saremo veramente lieti di inserirvi nell'elenco delle librerie che hanno deciso di offrire ai propri clienti il servizio ex libris del progetto ebooksitalia.com. Arrivederci! Grazie a tutti!